Zaini in spalla, libri alla mano e si comincia. Giorno di nuovi inizi alla scuola media vida dove la campanella ha dato il via al nuovo anno scolastico 2024-2025. Poco meno di 400 i ragazzi entrati questa mattina negli stabili di via San Lorenzo in centro città. Oggi partiamo con le 4 ore, come da nostra tradizione per il primo giorno di scuola. Da domani le 5 ore fino al raggiungimento progressivamente delle 6 ore canoniche. Non abbiamo grosse problematiche in termini di organico. Siamo pronti per avviare regolarmente l'anno scolastico. Quattro le classi prime accolte come ogni anno con una cerimonia di benvenuto tenuta dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Cremona 3 Laura Rossi. Una partenza anticipata di qualche giorno quella della scuola media vida rispetto al calendario regionale che fissa l'avvio delle lezioni nel prossimo giovedì. Avendo deliberato dei giorni di vacanza durante l'anno scolastico abbiamo deciso di anticipare di qualche giorno. Diversi progetti pronti a partire che vedranno i giovani studenti come veri protagonisti da parte della dirigente un augurio ai suoi ragazzi. Auguro davvero a questi ragazzi di cogliere il valore e l'opportunità che la scuola rappresenta nella loro vita. Per cui veramente auguro per loro un anno scolastico sereno, denso, di esperienze significative che le aiuti a crescere e a diventare dei cittadini consapevoli e delle persone migliori.